Quante volte hai pensato che farsi giustizia da soli sia la cosa giusta? Cinzia l'ha fatto reagendo con rabbia e uccidendo il rapinatore. Però fermiamoci un attimo, è davvero questa la strada giusta? Devi sapere che se condivela ogni azione crea karma, una reazione che ci segue. Agire o reagire con rabbia o violenza crea un ciclo infinito di dolore e sofferenza. La vera giustizia non è nella vendetta ma nel saper controllare le proprie reazioni rompendo così il ciclo del male. La forza vera non è rispondere al male con l'altro male, ma mantenere la calma e compiere reazioni che portino bene e pace. E tu da che parte stai? Dalla parte della soluzione o del problema?